la scena 5 e nulla si fatti sono un porco stino ora giriamo altre scene perché stranamente siamo in anticipo ma quindi piace la regista sboccare l'acqua che ho appena bevuto un melone? un melone ragazzi su dai venite forza forza una copertina di albicocchi dai su forza forza dai venite come è andata? stanchi morti stanchi morti lavorato troppo cosa hai venduto? albicocchi matura al punto giusto come è andata oggi? mi ha anciolato lo zaino cazzo molto faticoso coregista? coregista dai coregista? coregista ciao come è andata oggi? bene adesso abbiamo finito la prima parte e si va a pranzare e poi fino alle 6 come è andata oggi come è andata oggi come è andata oggi come è andata oggi? come è andata oggi? allora qui come procedono le riprese? allora dobbiamo fare la 13 sta parlando con me? no dobbiamo fare la 13 no 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 dai 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 allora stiamo dobbiamo fare un sacco perché stanno andando al castello sforzesco ok grazie Ale andati gentino a parco sempione un attimo si fatti devi fare questi video devi fare quei video dove loro fanno è figa Ale come ti senti? ok capito si senti? io sono persa sono diffusa giù? attivo attivo più o meno grande però che animale è? scusami non lo so che noi diamo e noi diamo partito? eeeh azione e cosa? ciacca scusate scena al 18 scena al 18 scena al 18 scena al 18 punto 1 take 1 uno aspettiamo i corpi e e... 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 passano in mezzo a e... 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 no... prima ho fatto video in macchina avevo fatto video in macchina in cui cantavamo e mi ha detto... il tuo stile no è morto e... e... tag 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 ah... comincia già in mezzo ah... vi devo dire le battute aspetta continuata basta continuata continuata va di azione vai guarda lui ah scusa signori e signori dichiaro signori e signore ho poi il pubblico solo di uomini signore e signori sei due signori e signori dichiaro ufficialmente fine lavorazione e ora e ora non c'è non c'è pronti a cantare tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te questo ragazzi è il vero fine sette anzi giurico dai hai sperato nel fuorlo fuorlo giurico? no non c'è non c'è i ti E' una meta che io raggiungerò. Ma così è? No, ma lei cos'è? Mi chiedi di che cos'è? Alcoles. Ah, sì. Ma è di tu? Tu? Oh, che regista. È ovvio. Sì. Non succederà più che un anno all'entre anche io mi addormento senza te.